ciao ragazzi bentornati sul canale ci si rivede qui partiamo dopo aver recuperato le nuove armi come vedete la frusta di nemesi e aver ucciso il efesto se ricordo bene che stava facendo un stronzetto e nulla quindi partiamo direttamente il tempo che io mi ricordo i tasti eccolo perfetto allora ora abbiamo preso vi ricordo le armi che ci permettono di caricare di elettricità esatto scossa a un nemico e tutti i nemici vicino ok ovviamente questo consuma energia magica quindi non siamo felici noi questa la facciamo vecchia a scuola vai perfetto bene così sti cavoli dell'energia attenzione portali ovunque molti scrigni annotazione un incarico per gli dèi questa sarà la mia opera più grande il cambio della costruzione di un dispositivo per proteggere in cambio per proteggere ciò che ha di più prezioso zeus mi ha debitamente promesso ciò che è più prezioso per me il ritorno di mio figlio icaro bene ora che abbiamo qui annotazione il mio labirinto ciò che io chiamo la mia creazione rasenta la perfezione sento crescere la gelosia dell'altro dio di pari passo con l'impazienza di zeus ho già raggiunto la perfezione una volta mio amato icaro con te e anche quella mi è stata strappata si concordo vedalo allora qui abbiamo questo punti vari ragazzo mio il labirinto è quasi completato perché non sei ancora venuto da me insieme voleremo suppongo che le folate che risalgano naturalmente lungo la catena siano più che sufficienti per zeus mi ha convocato devo sovrintendere alla fase finale ok l'uomo vitoriano oggi ho sigillato il tesoro di zeus nel cuore del labirinto non mi sembra giusto sacrificare un figlio per ottenerne un altro giustamente però farò di tutto perché zeus mantenga la sua parola non pensare male di me icaro povera pandora abbiamo troppo da perdere che siano i filosofi a parlare di morale mentre noi inventori inventiamo si combinando il dono di borea con le fiamme ho ottenuto un'incredibile energia nuova le musee il desiderio di vedere guidano la mia mano ma non posso fare a meno di prendermi una pausa il dolore straziante che causerà questa mia invenzione rabrividisco al pensiero prego che nessuno sia abbastanza folle da cercare di prendere a zeus ciò che è suo aia sembra che abbia di nuovo creato qualcosa che sarebbe meglio non usare una lezione che spesso si apprende troppo tardi quanto è vero dedalo ora caro il mio dedalo io prima più o meno mi fa vedere da dove si spunta qua è stato dove vedo del rosso ok usa la balista per prepararla posiziona di dietro e premi R1 suppongo che ah è R che dovevo usare avete capito cosa sto per fare? sto per lanciare questo dentro che finisce di là e rientra là ma che spettacolo è? io voglio andare a prendere quello scrigno lì allora questa la posso muovere e girare qui non mi sembra che ci siano cose questa non abbiamo visto che fa vediamo un po' attenzione lì ci posso camminare vai dagli un po' va bene va bene ora questa la possiamo prendere facile quelle due quelle due invece come vanno prese quelle due si raccoglie ancora due ok poi comunque è tutto molto figo ora ora ok ok non capisco perché non riesce a saltare lì ho rischiato di cadere quasi ho rischiato di cadere quasi bene 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 non ci dispiace perfetto ah ma qui è facile ora quello che devo fare giro la balista alzo e sparo la balista e sparo con la balista nel coso c'è mi trovo lì suppongo perfetto ok ora rifacciamo questo però non è chiaro perché comunque sia questo mi rompe no non c'ha senso lo che ora posso fare è questo eccolo eccolo è andata bene mi sento molto fiero va bene bene così è un bell'occhio della gorgone che dici schemi di dedalo preziosa completa per va bene possiamo andare avanti eh lo sapevo bisogna sempre andare verso la telecamera perché questi infamelli ti nascondono le robe oh 5.000 direi che potenziamo le nuove armi sì la frusta di me si è potenziata perfetto ora io direi che possiamo alzare magari questo che tanto sono 2.500 sì puntiamo i 2.500 per ora la mega statua quella c'era un occhio sospetto mi sa che la posso sfasciare statua diafrodite oh il labirinto sì credo non lo sto capendo no il labirinto è lì dentro mi sa va bene ok c'è tipo roba elettrica una viva uva chi è sta alcolizzata tu gli dissi di ucciderti gli dissi di uccidere appena nascesti ma lui non vole il mio stupido marito avrebbe pienato e ora guarda cosa hai fatto guarda questo guarda bene muoiono per causa tua tutto muore ed è per causa tua il sole è spento gli oceani inghiottiscono le terre il resto cede alla malattia faccio ciò che mi è possibile per mantenerle in vita ma tu la tua feroce vattenza degli dèi ha causato tutto ciò pensi che questo giardino non sia protettivo hai superato Ercole con la tua pazza brutta ma il tuo misero intelletto non troverà mai l'uscita prendo il pensiero di vederti morire va bene va bene noo ciao bene e c'è una tizia che indica verso un punto a caso intanto noi qua ci prendiamo questo qui c'è roba no ok salve no sbagliato non so perché anche l'arco ha rivelato non mi dire che anche l'arco rivela no se anche l'arco rivela ci resto molto male ho ucciso la tizia per sbaglio potrei averlo fatto va bene scusate è da un po' che non salviamo quindi la sindrome va portata avanti va alimentata ecco allora allora potrebbe servire quindi un prezzo di dovere completo il gioco mi dispiace è bello de casa non ti è andata molto bene non ci devi da provare dai dai prima di andare qua vediamo sembra chiaramente una scala attenzione no prima allora con calma che se non ci perdiamo i dettagli del labirinto quindi prima di andare qui a destra qui davanti c'era una strada che sembrava chiusa vediamo solo non è vero sì ok a sto punto visto che è la seconda la prendiamo prendiamo anche questo perfetto ora possiamo andare di là 5.000 dove sta qua vai perfetto e appena arriviamo a 3.000 andiamo di questo così portiamo le armi secondarie tutte a due arguzia di di armes vabbè ah ok puoi fare lo scoppietto vediamo di qua se c'è roba un trappolone oddio che fastidio questi io li odio tantissimo ragazzi sempre odiati i i i cosi i fauni qui che no i insatiri ok uno è morto e l'altro pure perfetto tosti questi ok vediamo dove spunto scusami però mi serve questi sembrano rovi tuttavia sono verdi e rigogliosi non possono essere bruciati ok ci sarà qualcosa da farci ma si la si va di qua sembra un'altra cosa che si chiude l'ho detto ragazzi mannaggia a terra ci sono scritta quale coloro che posseggono la pietra di iperione possono vedere il vero cammino degli dèi guardano la pietra per scoprire la verità ok mi serve con l'occhio quindi una questione di punto di vista e ora diventa una scalavera esatto però io mi sto è a tempo chiaramente ma io mi sto perdendo robe per questo non me ne sta fregando molto cioè da là si sale ok ma io no non posso stai dicendo che non posso ah ora posso ok si 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 tranquillo c'è questo volevo tornare indietro per vedere di là cosa c'era aspettiamo evitiamo qui se no lo rifacciamo non posso eh devo fare tutto il giro va bene faccio tutto il giro ragazzi niente non posso fare tutto il giro sono molto triste vai attenzione forse posso saltare però cosa diceva no non ho letto sarà l'effetto della pietra di invernione è finito però aspetta voglio vedere se riesco a fare questo no perché c'è un muro invisibile bene che fastidio queste cose di qua ve lo posso nemmeno ma è aperto ma che fastidio vai va ah però di qua posso che vole quello 3000 vai perfetto poi direi che torniamo alla nemesi quindi 5000 bene bene stiamo recuperando un sacco di collezionabili nulla ah pensavo fosse un qualcosa uh qua c'è un altro gioco ah no questa è proprio una scala vediamo se può andare di qua può andare di qua dove non lo so posso far ruotare anche sì ok proviamo a fare questo sto andando molto di intuito eh esatto attenzione va bene fai una finaccia se continua così cosa hai fatto cosa mi hai fatto fa quasi bene tutto ciò che tocchi secondo me diventerà una roba pericolosa buona fortuna con quella sgualdrina di pandole secondo me more e basta eccala mannaggia mannaggia prende proprio un brutto andazzo per il pianeta terra mi sa tutto il verde ovunque ah ora è secco ok cosa ah ok la puoi usare come penso ok questa sicuramente la lasci qua sopra manca qualcosa aspetta ah devo riprendere la cosa probabilmente esatto devo riprendere questo probabilmente non serviva lasciarle lì eh però ora questa rialza hanno quell'altro perfetto abbiamo oh ragazzi si è il quadro di Escher sembrava lui no questa non l'ho capita questa inquadratura di questo che si è spostato fammi vedere se lei o lei facciamo tornare a posto intanto che aspettiamo che passi il tempo mi sa che ora ho riaperto dai no eh chiuso ma dura in eterno ora ok non dura in eterno qua non posso qua non posso io ho l'ansia di aver lasciato anche solo uno scrigno di là vieni vecchiarda che ormai sei altro non sei più una vecchiarda però questo non credo di poterlo portare vediamo subito tanto e invece forse sì esatto attenzione non capisco bene che qui lo posso piazzare è l'unico punto in cui sembra che io lo possa piazzare aspetta fatemi vedere se le ho lei intanto dai su aspetta forse posso mettere lei qui posso mettere lei qui è lei che devo mettere qui va bene ma giustamente qui non può ruotare allora ora lo porto fin giù e poi faccio il coso di perione lì come cavolo si chiama l'occhio di perione esatto quindi vai il posto così prendo lei passeggiamo con lei che spettacolo questa cosa è e la lasciamo qua questa cosa alza lì perfetto probabilmente qui ora devo prendere questo e vediamo se lo riesco a piazzare qui sopra perché non so se il tempo basta ok no non posso sì che posso ok ora lo lasciamo qua e abbiamo tutto il tempo dell'universo per risolvere questa simpatica scaletta ma che figata è bello il dedalo così eh è stata una gran bella idea che figata bravi 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 ragazzi santa monica non deludono guardate quant'è imbruttito lui comunque ma perché? così nessun altro può ma metti che qua ti riserve un po' bo' scemo così nessuno lo può più seguire o può venire qua probabilmente diciamo che l'intuito l'interesse e l'intenzione è proprio questo guardate le cose da un altro ok sì povere laura grazie grazie no ok no e invece sì ah no perché basta tirare fuori un secondino la testa per farla rivelare bene bene e ora entriamo ma prima salviamo dai 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 vai quando si dice sistemi di porte assolutamente complesse sicure vai tu sei già morto ma che delusione sei figli i scorpioni ragazzi non ci ha provato ciao scorpioni ehi boni mamma mia comunque quest'attaccare è proprio poderosissimo vai un altro occhio di gorgon mi dispiacerebbe vabbè vabbè anche occhio alla penna mi sa che siamo arrivati al massimo ragazzi no forse c'è ancora uno beh qui dobbiamo attivarla per poterla fare bene cosa diavolo dove saremo ok vediamo qua non c'è niente di qua non c'è niente di qua si si ci ricordiamo poveri scorpioni che spettacolo ci sono proprio tante belle trovate ragazzi parliamone proprio tante belle trovate mi aspetto tipo scorpioni lì c'è gente e dai e dai ok mi sa che sono morti tutti ho ancora uno fammi tornare indietro perché non vorrei che qui c'è roba nascosta no ok guardate che passetti da danzatore che fanno piccoli piccoli resti quel suono annotazione sulla grande catena pende il cuore del labirinto in equilibrio tra l'ade e l'olimpo se un lato perde la presa il potere del labirinto aumenterà o diminuirà di conseguenza alternandone per sempre l'equilibrio e come sempre l'uomo ne subirà le conseguenze le caverne noi già qua ci siamo passati ragazzi però siamo a livello della torcia che vogliamo raggiungere perché dentro c'è la nostra amichetta che aspetta vai vai cosa? è questo? il fuoco liquido quello è il primo poi poi prenderò il dono di moglie la tempesta è un giaccio con quella riuscirò potrò riavere mio figlio qui con me ahia primo subito subito lo dovevo fare dopo occhio per occhio lo dovevo fare dopo che avevo preso un po' di schiaffi perché mi ricaricava pure mi sa è stato un errore ragazzi aspettate un attimo ok cornucopia mi sa che sono arrivato al massimo perché comunque sia cioè il fatto che sia un achievement e mo e dai vabbè giochiamo per bene ma ouch no che sto a fare vabbè ormai lo veniamo e questi li abbiamo ammazzati poi dietro 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 è morto no via 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 staccalo 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 bene ok ora diciamo ok vai 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 e questo l'abbiamo tolto mo comunque gli scontri mi sembrano o meno estenuanti rispetto agli altri mannaggia eh vabbè non è scemo è che alle volte mi distrago per chiacchierare con voi e perdo in concentrazione ok sì sì povera quant'era che mi servivano 5.000 5.000 e 5.000 sì perfetto l1 triangolo bersaglio letale l1 triangolo in aria ok durante oltraggio del giudizio incrementale non mi ricordo qual'era comunque sia ah è questo ok vabbè torniamo comunque alle nostre amate lame del caos annotazione Zeus vintiene sempre il fiato sul collo la sua presenza si avverte anche quando se ne va sembra che il cuore del labirinto sarà sia una chiave che una serratura con i giudici di ade come chiavistello ma io prometto che se non riavrò mio figlio tutto ciò che libererà sarà distruzione e caos allora mentre Dedalove pensa di vendicarsi noi salviamo e ne approfittiamo ragazzi per salutarci visto che da un po' che giochiamo non abbiamo visto troppo in questa puntata c'è più gameplay che altro però comunque siamo arrivati al cuore del labirinto e quindi ora vedremo un po' come si procederà nella prossima puntata per ora grazie per il vostro tempo e la vostra attenzione ciao belli grazie per la visione grazie per la visione